Ciao carissimi carissimi, oggi sono a Gornatolona in via Roma al numero 8, una stradina chiusa attornata solo da ville per presentarti una bifamiliare molto interessante, circa 300 metri quadrati di casa di cui ben 160 tutti su un unico livello abbiamo un giardino con il suo piazzale di 700 metri quadrati, quindi perfetto per te che non ami così tanto fare manutenzione al verde e qui è molto comodo, questo bel piazzale ti permette di collocare le macchine che vuoi quando vengono a trovarti gli amici oltre a fatto abbiamo un box di ben 40 metri quadrati, ora insieme entriamo ed eccomi all'interno, come potete vedere un ampissimo soggiorno che può anche diventare quello che è la cucina gli spazi, gli ambienti sono notevoli perché in tutti questi metri quadrati potrai ottenere ciò che vuoi sull'altro fronte abbiamo la cucina ma volendo se desideri potresti fare un ingresso indipendente e perché no realizzare il tuo studio personale, quindi è una casa molto versatile di qua nella zona notte con una prima camera di qui la seconda camera da letto che è una matrimoniale e da questo punto vediamo il bagno lavanderia e di qui il bagno dotato addirittura di vasca e duccia quindi lo puoi modernizzare come meglio credi e ulteriore camera da letto matrimoniale molto grande come vedi le metrature sono generose e da questo punto potrai andare direttamente alla scala che ti porta al piano superiore e al locale caldaia grande vantaggio il collegamento tra le due unità abitative da scala interna oppure da questa bella scala esterna al piano superiore un appartamento di 135 metri quadri i proprietari avevano iniziato a ristrutturarlo poi hanno dovuto prendere la scelta di venderlo e quindi lasceranno a te questa importante casa perché tu la possa vivere felicemente e pienamente con le persone che ami io ti aspetto per venire a vederla e comprarla e ricorda che con Domus Tua è facile vendere ed è sicura costare e ricorda che questo immobile è già oggetto di sanatoria quindi il tempo che verrai a vederlo sarà perfettamente sanato sì perché Domus Tua vende case certificate e se hai il piacere di essere seguito da uno dei nostri progettisti Domus Tua ti offre tutto progettazione, l'interior designer, l'impresa di costruzioni fino al trasloco quindi con Domus Tua facile vendere, sicura acquistare felice casa a voi tutti